Nella vita di Marty McFly I McFly non hanno mai significato niente nella storia di Hill Valley Ma la storia cambierà Il 1985 non è un anno fortunato Ma il dottor Brown cambierà tutto questo Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una Delory Sta mandando Marty trent'anni indietro nel tempo Funziona! È un disco volante, è venuto dallo spazio Scappato, scappato! Ora Marty è prigioniero nel passato Deve essere proprio un suo Incontrerà... Al cioccolato Il suo futuro padre Il suo padre è un guardone E farà colpo sulla futura madre È un vero amore, non ti sembra? Non pensi che dovrebbe dormire qui stanotte? Tu non devi parlare con nessuno Ce lo fai, possono esserci serie di percussioni Tu mi capisci? No! Adesso deve far sì che il padre e la madre si innamorino Guarda la data di nascita, guarda Io non sono ancora... Soltanto il dottor Brown Può permettere il suo Ritorno al futuro Vuoi dire che questo aggeggio è nucleare? Precisamente Michael J. Fox Siamo sul pesante Christopher Lloyd Ancora questa parola Pesante Ma perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità? Steven Spielberg presenta Ritorno al futuro Un film di Robert Zemeckis Grazie a tutti